Buonasera, su canale C2. 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 ma prova non è tornata siete la Mari Vey? secondo me non se ne fanno perché poi la carpa è fermata e mi si confatta una sigaretta la filosofia da Valla si difende in questo modo Siamo per l'esercito no con coltelli e accessori da cucina coltelli e accessori da cucina tanti accessori da cucina e utilissimi fascicoli con i passini e un peccato il fedon nero con gli occhi il fedon nero non c'è pace per me e peccato questa televisione me l'ha aspettato un po' più varia no 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 vediamo Grazie.